l'articolo con i caratteri colori che faccio figlio di averlo registrato colore vola verso il sud ora con la marziana colonia si deformi una colonna fuori la bucchia ma quanti siamo tempo al tempo è come un pox perfetto 1 2 3 4 6 7 8 9 10 quindi ok e qui adoro non c'è altro ma ben di se lasciamo da testo m4 immagini per quello mince c'è l'ha istorto si esatto chiesa corso risposto molto piccina con i giocattoli vabbè dai prodotti intanto non c'è giocattoli non c'è nessun solare non è che ti autopromuovigliere non è fai testa due che mi rimettiti in colonna camm il profilo lecce la spazio di un marco il gine alusea tra l'altro c'è 4 per favore cambia l'amore di ebna poste sanno il nostro caro se si vede un po' di mince e si telematicamente allie non mi stavano se si rosa ne pare perfetto si rosa sinistra no destra pari a sinistra e albubo il pavere per gialli con me a sinistra destra e muore per la sera ma la destra di chi è per questo punto allora ovviamente vai per a sinistra bar monchi sinistra gioppino destra ok allora vabbè giangi va bene anticarro con quello leggero non so adesso se avete i profili salvati l'altra volta non c'ho idea neanche come vabbè il GR comunque l'altra volta l'avevate fatto in linea di massima sulla base di quello che usiamo di solito quindi più o meno un po' adattato ma ottiche ra tu sai qualcosa? ottiche sta roba qua no ne abbiamo parlato l'altra volta si rave ne aveva detto l'acog o quello il dot è tutto quindi questo qua io li dover dire a bene che è l'acog o quello quello non funziona con il notturno però non so se funziona non ho trovato questo ma ma ancora la cosa normale funziona con lo stesso immagino lei può in farsi vado vado a bere porto due spazio allora grazie dell'avviso allora vabbè già ci prendi i tizi dell'anticarro vabbè tanto sapete già stessi in anticarro vabbè 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 diviso di arma 2 euro sul tromba orto l'avvo contato davvero l'avvo contato però viene buono quanti siamo noi cinque indire con te ottimo allora 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 dicevo fucile anticarro gioppini granatiere marco che inizia non so fai tu il granatiere marco e giopo fa coso urto fai fuciliere non ho capito un cavolo come ti trovi con l'amg vabbè 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 fai tu il granatiere l'amg e il sciumenico quale amg penso la due 49 penso un'altra volta non so quale è stato utilizzato brutto quello bravenito ehm a t che cos'è che si portava l'altra volta ehm ehm vacca vacca se io c'era l'altra volta mi sembra lo small lo small lo small lo small quello piccolo lo piccolo è quello che c'è già addosso che è ah che si quello che si chiude quanto pesi così eh 38 beh no non è questo è quello che è leggero vabbè devo cambiare ma sarà quello ehm verrà sarà quello dai l'M27 l'M72 come si chiama ehm facile tanto c'è forza M136 sì mi sembra no il 36 è la T4 più pesante cioè l'M72 mi pare quello 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 piccolino verde sì vabbè allora sia urto che mo che fate due T ok perfetto vabbè intanto andate giusto al gear direi che vabbè vabbè teniamosi la cosa mi medica la giubbettire questo cazzo è la base buff ok vabbè 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 non so pure l'altra volta allora ah ho un senale ahhh ehm quale è da me vabbè da dove camminiù E' giusto, è un anticarro Quello che ha Giangi E' quello che ha addosso Perché è quello che ho io adesso addosso Cosa abbiamo, Raven? Ma quanto pesi con quello a fare lì, scusa No, basta il compro Però mi pare che, cioè, dato che c'è Foxy Vi direi che possiamo fare Poi, io altra volta a presentare pesavo 48 Eh, Dio santo, no No, 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 assolutamente Ma prendi quello leggero Raven? Mezzo? Eh, boh So niente ragazzi, un attimo che E chiedo un secondo che devo fare il gear Perché io non ce l'ho Allora Ma che cavolo si chiamano i formi USFrog, quindi SMCFrog Sì, ok Oh porca Che c'è in TS Incredibile Incredibile E che cazzo Sì, mi chiamano i formi di Ramius Sì 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 Ero, bisogna prenderlo Sì 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 ok proprio su 40 e le frecce urto giusto il zaino che ha più no non è giusto è sbagliato il lanciar comunque è l'M136 si quello è lato, c'è uno più leggero addirittura dovrebbe essere l'M non sto guardando ma dovrebbe essere quello più piccolino sarebbe l'Ellovie è una brutta versione quanti sei muo' non so ne ho il KitKat KitKat ok oh KitBug è Halloween è un vero è strano un vero è strano porco cane però non si può bella è è è è è è giusto dai ne tocco io o te si no anche il coso anche di bene perché tu sei leggero si bello va bene perché è leggero non ti carica troppo di peso allora si il coso infatti è l'M72 è quello che dicevo io non so che gittata già mi sa che casca come una bella va a buon metro ok le ottiche la canale radio il bobo bobo direi 51 ecco eh non ci sto ancora comunque me fido sulla barona eh sì qua questa è la special edition adesso ma poi ci ci schiava sui cosi io penso la prima che era la special cazzo no 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 turisti e vabbè un turista russo russo diciamo turista cedo doponese socca 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 quanto pesi guadagnolo e dopo lo lascia nel mezzo questo questo tutto eh lo smuove i colpi ok 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 vediamo abbiamo il secondo vai con questo fio cominciamo a caricare ok qual è la ve la mostra è questa si la carica sull'altra ah ok perfetto ok allora scarica tutto qui con un po' di colpi come si switch a le bombe con il default ah mi piace che li deployagio a vuoti non lo so non lo so mai ah rame oh come si switch a non le bombe control g control g control g no no con quello che ho perfetto porto le granate perchè è pericolosa parti uno a caso ecco ne mancano chiare il plato ecco i colpi parca cagli cchè 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 i tappi si no c não tenemos no Grazie. Hehehehe. Hehehe! Ehm... chi everybody has a headспend to me? He's got a head. The only one! He's got a head and he's got a head, and he's got his head. He's got a head and his head.... He's got a head! chi è che ha caricato le munizioni sul mezzo? 5.56 sono ancora sbagliati cosa so gli stana che colpi vero? ragazzi non mi prendete in giro per favore StanaG995 è appiso trali 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 è stato a come tutti riempiamo fino a che non esplode eccomi come? te lo perdiamo dove c'è? l'agg il posto testo era allora non è vero manca già in squadra allora bacio come alla cacolo faccio un brifo il secondo per più posto per i cori per il contro il 53.6 tetta la frequenza perfetto e comando in broadcast per tutti i tl i secondi briefing sotto la tenda all'interno dell'hq ma penso che siamo già tutti se non manca seconda secondo se tutto sentire il vero c'è la caccia c'è la caccia 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 un po' non so se ti l'ha preparato stiamo parola marley ci siamo class e dead ci siamo ok ok perfetto dunque il team di raven che coltana Alfa direi Alfa, Ramis, bravo Allora, per quanto concerne Alfa Il tuo percorso tracciato è quello viola La linea viola Ok La missione ad oggi, al momento, è un patrol Ok Patrol significa che i regolingaggi sono giallo Se trovi qualcosa di anomalo Tipo, che so, edificio da ispezionare Ci stanno installazioni terroristiche Che fabbricano ieri di roba del genere Quindi, se trovi qualcosa del genere Ti fermi a distanza Pare anche per Ramis, chiaramente Ti fermi a distanza Comunichi con l'HQ, che so io Con il comando Che siamo noi qua Del comando Dai le informazioni e ricevi le istruzioni in merito Bene? Ok Cioè, questi punti strategici Vedi tu, qualsiasi cosa di anomalo tu possa trovare lungo la strada Il percorso, durante il percorso, ovviamente, fate attenzione per gli ED Perché sono sempre presenti E se, per esempio, ingaggiate con un nemico all'interno della città Facciamo un esempio, Bushra Su A136, 132, andiamoci un attimo tutti Se il nemico si sposta e vi tira fuori per più di 500-600 metri Ovviamente non lo inseguite Sì Lo ritenete opportuno Per qualsiasi motivo Comunicate con la base Prima di uscire fuori dal percorso Capito? Perché se morite tutti A un chilometro, due di distanza La linea viola Poi vi rimane difficile Per il comando O per ECO Identificarvi Qualora Arrivassi in contatto Di un tank O un qualsiasi blindato Ci chiamate Chiamate il comando E vi mandiamo Fox Che è saltata la connessione Venga? Check, check Oh, non ci sono Non sento più un Mac Mac Sentite? Sì, adesso sì Dove siete rimasti? Ah, Fox Esatto, Fox Patrolla a grosso modo In questa zona centrale qua Che è l'intersezione dei due insieme Ok? Ci metterò un po' Diciamo Sì, sicuramente Quindi diciamo Se vedete un blindato La prima cosa che fate È andata in copertura Se è leggero Un blindato leggero Potete pensare di farlo Se è pesante Tipo T-72 T-90 Vi suggerisco Di rimanere in attesa di Fox Oppure Se è particolarmente distante Che Fox non ci arriva O è già impegnato In un'operazione Sganciamo Ecco Va bene? Ecco il jolly Che arrivava per tutto Grosso modo Ok? Assoluto Ok Quindi ricapitolando Ho assegnato Linea viola Raven, giusto? Sì E linea blu A Bravo Che è di Ramis Va bene? Ok Perfetto La fanteria Con le ambi Dismissed E adesso pensiamo Per Fox Fox Tu esci E un attimo Che ti vede Il patrol per te Il patrol per te È con linea verde Grazie È grosso De 51 Sì Chiaramente Fox È indicativo Il percorso Bene? Siamo a dei pigiari Perfetto Ecco invece Andiamo con Giallo Ecco sei in Questo loop Ho preso il giallo Che è un colore un po' Cazzo Però Penso che tu abbia capito Bene? Attenzione Fai molta molta attenzione Perché c'è la possibilità Di Anche la fanteria La terra Quindi Gestisci La tua La cosa Vedi un attimo Non andare proprio Così Spensierato Vedi un attimo Come gestirti la cosa Il veicolo assegnato Per Fox È l'M11 Abrams Tusk Il veicolo assegnato Per Echo È un Little Bird Con Hellfire E Far Va bene? Ok Perfetto Dismiss tutti Andate Tox In poi Ok Alla ordine colonna Per partire Scusate L'hai accennato Come? L'ordine colonna Di partenza Adesso Come? Ma un pezzettino L'avete in comune Poi dopo No Sì si devi Il titolo Insomma Partiamo subito Ok Sì sì Partite fu Vedi Tanti Sono 3 km E poi staccate Ok Vi appiccicate Ok Ok Allora Alfa Bordole Lambe Matteo Ti Ci abbiamo di guidatore oggi Gioppino Se promosso guidatore Bene Mi raccomando Mi raccomando Comanda Invece Su cosa Non ce l'hanno Dove posso No No Non siamo tutti Manca uno Dove c'è Manca Fioren Anche Quindi Sintritte Perché Gianni Già Scusate 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 Ah No Lo vedevo C'è La mia Breda Trasparte Ok Siamo tutti Mi raccomando Che sto registrando Bravo Qui Alfa Siamo pronti Quando volete Ok Guida 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 Ok andiamo Vai Parti Non mi ha dato Ok però Andiamo Intanto andiamo Verso L'uscita Avanti a sinistra Sì Avanti a sinistra Epp anche Riconosce Vai Vai Esci Davanti A sinistra C'è la strada Usciamo Alla base Ok Ok Ferma di poco Prima Della No Più avanti Più avanti Prima Ho ricevuto Fox Aspetta che esca Prima tutta la fanteria Poi dopo procedi tu Sager Stanno dietro Gli altri Mi dai un'occhiata Pazzo Romando Dego Siamo pronti a rollare Passi Ecco Qui comando Autorizzati al Rollaggio Decollo Sì Ho ricevuto Chiedo No Sono ucciso Ora Focco è bravo Siamo pronti Dietro di voi Da Iniziamo Muovere Vai pure Vai E dritto Fino all'incrocio A T A destra Ok 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 Aberti Mi raccomando Per eventuali Di Per tutto Dei Anzi C'è L'invisuale Qua c'è Un'acqua C'è un'acqua C'è un'acqua No Sono in porta Ho sentito prima Adesso Sì Ero sulla lunga E' meno C'è un'acqua C'è un'altra Conale 53.6 Siamo Siamo Sul 53 Eh 53.6 Siamo Sulla lunga No Sulla porta No 51 Ero 52 Prima Lo sentivo Ah Ok Ok La vediamo C'è un'acqua C'è un'acqua C'è un'acqua C'è un'acqua C'è un'acqua C'è un'acqua Ok Per No In altre partite Non so perché C'è un'acqua 52 53 Io Da solito Dove Di sparare 5 Non so Ok Non so E' più Di un'ottica Non A A 1 Ah Esatto Un po' di Merda E' una terza Azione A sinistra Roger Ok Preparate Affermate Prima Del villaggetto Che facciamo Un check Ho ricevuto D'Alfa Facciamo Il check Sulla Prima Cittadina Di Gufran Ok No Più avanti Non qua Più avanti Più avanti Arriva Le prime Case Accosti In destra E ci mettiamo Scendiamo Facciamo Perimetro Trai Giangi No Gioppino Qua? Sì Avanti a destra Va bene Prima di muretto Poco prima di muretto Lì davanti Va benissimo Giù Allora Giù Allora Fiorangione Sul mio Gruppo Mi ha detto Qualcoso Quello Con L'interazione Di Ace Non capisco Perchè Ando avanti Col mezzo Ok Perfetto Andiamo Proseguiamo Il padrone Città Mg Grandiere Sopra Gli altri Sotto teniamo Il perimetro Perfetto Dentro eh No Grandiere Sopra Ciò No Scusa Non ho sentito Gli altri Due Del perimetro A terra Gli altri Grazie E poi proseguiamo Ma il bar che hai detto Ah ok Vabbè quindi ci mancano due città da fare sta roba Da dopo lo devi fare anche quando sei da solo Sì sì no dico sì No per dire magari come ci dividiamo cosa facciamo Questa sono venuto qua in mezzo così a casa Eh non è in effetti Magari facciamo lato sinistro lato destro Sì dai Fermiamo le prime case Ai vari lati E proseguiamo in patrol Dai direi che possiamo muovere Alfa due Andate a recuperare il mezzo Sì Sì E' pronto a scendere quando arrivo a costo di mezzo Te lo vediamo Ok E' pronto a scendere quando arrivo a costo di mezzo Ok, andiamo. Ok, a bordo. Comunicate l'in. In. In. Turan? Si, si è detto, si. Lo sento, vabbè. Andiamo. Oh, basta arrivare. Guardi noi. Bravo, qui alfa, procediamo. A destra. Viate il civile sotto, non lo so, ma capite stai in parte. Non ho obbligato a vicino. Più c'è, come senti? Adesso si è di me. Ok, a posto. No, 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 no. Era per vedere, per vedere. Prima. Un po' questa. Ho venuto sto mezzo e non c'entra una sega. No, ha paura. L'altro che era morto. Ia. Infatti abbiamo ammazzato un civile, ci sta segnato in mano. Sparca manca. Ma come? Eh si, l'hai rotato. No, non l'hai visto. L'abbiamo avuto una mazza. Occhio, occhio. E' il centro della strada. Non ci capottiamo. E' occhio qua all'agglomerato urbano. La regione di burro è bravo in caudella. Occhio Matt, più sopra. No, vai, vai, vai. Senza rallenta troppo. E' importante che consiglio di rallentare quando svalidiamo qualche condimento. Ok. 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 No, è Riccardo No, su, serio? No? No, sembra un bambino No, li siamo molto esposti qua, vabbè Non puoi seguire E' eroso che è sempre vivo Guarda che tornantini Ok, fermate al lato sinistro le prime case Non ti fermare qua, non ti fermare qua, qua siamo scopertissimi Io adoro sta piazzola qua a sinistra Vai, vai, vai Ok Brava, brava, brava Non ti enfilare troppo dentro, prossimo quando c'è più Perché dopo se serve a cacciare il mezzo veloce Non è una buona Ok Ok, allora facciamo un giro un attimo qui tra le case Vai, vede Contatti, c'è Maccatoia Cazzo Via, 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 coperti Bravo, qui alfa, riceviamo fuoco pesante in direzione nord Contatti nella città Ok, cerchiamo di prendere sto palazzo come punto di riferimento Entriamo e puliamo da dietro Eh, granadieri e anti-carlo Ok Comando qui alfa, siamo nella città di Yafia Entra Anzi, entro io Seguimi Vai, vai Ok Ibro, terra E' un contatto qui sotto, l'ho visto Eeeh Matta, non so se stai riusciti a dire Ibro, piano terra E' proprio qua sotto stava Vuoi che esco? Non sa che è morto, non è morto un'esplosione, niente Ok, alfa, sentiamo un perimetro dentro Ibro i tre piani Non chiudete le porte perché Andiamo spiegando Allora, AT e medico, piano terra, gli altri piani elevati Ok Nessuno ce l'ha a girare, mi raccomando ce l'ha a girare Ok Bravo qui alfa, abbiamo preso il palazzo sopraelevato nella dovest della città Noi ci evitiamo che ci spara un'altra volta Capito, bravo Un è morto, stava qua sotto Solo che è arrivato, fuoco tipo anti-carro mi sembra Attento a non cadere Eh, infatti c'ho paura Però, ok Ma secondo me era un ID 0-3-0 Ricevuto, in effetti lo sospettavo perché abbiamo ricevuto fuoco anti-carro prima Non so adesso se era da fanteria o da mezzo Molto più probabilmente era da mezzo C'è come che ci è andato molto bene Che ne ricotta Sembra ricotta Pronti a rientrare se serve, se è qualcosa di troppo grande per essere gestito Trave Grave Grave Da qua dove sono io, a 1-3-0 Ci sono dei sacchi di rimondizia che non si hanno un ID Sì, penso che l'abbiano notato Più che altro qua c'è un IED sicuro Che c'è mezzo alla strada Un bussolotto sotterrato Quindi quello Se riuscite avanzate sul lato est Le case est Fino a più o meno indicativamente Nella zona del tornante Ci posizioniamo verso nord Per lì credo siano i minacci Ti segnalo una IED lungo la strada Da verso l'aveste comunque per dopo riguardano Che è sto fuoco? Fuoco da 176 Sì E' da qualsiasi sta qua eh ITR là dietro Vabbè Non dovrebbe essere un problema C'è Fox Allora Ok gli altri avanzano Da lungo La direttrice est Cerchiamo di dare copertura da qua sopra Checco Che figatta Che succede? Sì, beh, i suoni non so, male I suoni sono veramente impressionanti Da vicino fanno veramente cagare Eccolo che arriva a mio posto C'è un blindato nemico in arrivo sul ponte a nord Quindi arriva tra poco su sta zona Pronti a coprire dentro casa Se arriva la zona Anzi, cominciamo a coprirci già adesso Prendi le finestre, magari quelle che danno Vedo qua Ok, ci pensa Echo Dopo che ha ingaggiato, pronti a muovere Ok, eliminando il micro, il micro, il micro posto Per l'ID chi ci pensa? L'ID, bella domanda Adesso appena abbiamo un po' di pulizia nelle comunicazioni radio Chiedo al comando informazioni Se le ignoriamo forse va via Avanti, comando Stiamo finendo la pulizia della città di Yafia Qualche contatto eliminato Non sappiamo se ce ne sono altri Comando, chiediamo istruzioni per ID sul tracciato Positivo Ricevuto, bravo, qui alfa, confermi l'ordine del comando Negativo, proprio lungo la strada c'è un cumulo di macerie con un bussolotto sotto Coby, se avanzi vi diamo copertura Andiamo copertura al geniere da sopra a sud Ok, usciamo fuori, diamo copertura massima Vediamo se qua ci sta qualche altra Ah, non tantissimo Vabbè, Matt, come da sopra Dal balcone viene bene a me Sì, da un po' dal balcone, vedi Verso nord mi interessa, nord o dovest, da lì dovresti vederlo bene Gioppo copri insieme a lui sopra Arrivo Ok, Genji Mi raccomando Vai, 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 aspetta Ok, casca di sotto Mi raccomando Pronto Cioè, non c'è Comando da Ego Riamo effettuato Torniamo in zona da per lì Ok, ce lo do Cosa sta anche, eh, Gianji, poi sto sta anche fuori qui sul pianerottolo verso nord, ok, me lo copri meglio Ok, quello credo sia all'Avrams Che colore hanno, no, no, cazzo, che colore è Va È ugine Eh sì, è brutto, guarda Sono sul tetto No, sul tetto proprio no, eh Negativo sul tetto, scendi sull'ultimo piano al massimo Mi svolge, però, no, di Sul balcone, beh, non devi coprire il nord come matri, copri il sud a matri Sud, sud, est Ok Colpi, arrivo in mezzo, arrivo in mezzo alla strada Eh, almeno arrivo lungo la strada Si è in mezzo armato, non lo identifico Fox, veicolo nemico in arrivo da ovest, 280 della nostra, centro città, eh, APC Eh, coperti, coperti, coperti Contatto effettuato, aspettiamo libero visuale e lo abattiamo Ce l'ho, Raven, ce l'ho quando vuoi Alfa, qui Raven, ce l'ho quando vuoi Se c'è il gunner, fallo Rigevuto, abbiamo visto che c'è posizione elevata dalla cinta Pensavamo poterci, dare, poteva darci il fuoco di supporto Gunner eliminato Rigevuto, abbiamo risolto, gunner eliminato Ma per a chi spari? Penso sia lui, o no? No, l'ho pensato di risultare, tu sto sparando qualcuno Ma ecco, mi dicevi? Raven in mezzo ha ripiegato, ha tornato indietro Rigevuto, ottimo lavoro Eh, ha ripiegato in mezzo, niente Ok, ok, procede Ripiegate, copriamo per prima Se non sei sicuro di farcela, possiamo farla per in là, mi ha detto Non è che dobbiamo Fai come vuoi Coperti gli altri, però che se salta non saltiamo pure noi, eh Così Monkey sta un po' troppo vicino Oh, quella bella carica Fiu, per sicurezza esce il compito dietro in mezzo All'ambi nostro, non sa mai che il palazzo crolla Sia vol Ok, vorrei che è spuntato adesso Sono spuntato, che non mi va a lungo Eccolo E' niente E' rimasta una pozza di sangue Sì, sì, ha voluto Io ho detto, infatti Voglio provare lo stesso Per vedere perché non funziona Resti in peperoni? Sì E' rimasto il fucile, guarda Positivo, Fox Comando Comando, il ingegnere è esploso nel tentativo di disarmare l'ID Per il resto nessun ferito accidentale Chi ha aperto il fuoco? Io, io Meglio per te, grazie Per? La piccola No, negativo Non aprire il fuoco Se non sono nemici Alfa 2 Alfa 2 Come prima procedete al rejoin Con il mezzo Anzi tutta alfa Che c'è lì dietro Portatelo lungo la strada Qui a ovest Il guida Non è giù Il pino è in Quattro il manca più dietro ho più e lo danno io strada? guarda di portarlo c'è strada no da qua no ok per tutt'alfa un nuovo protocollo se serve ingangiamo i sul comando ovviamente ingangiamo gli edi con la calibro 50 del mezzo o con quelli con i nostri individuali John Pio dove state passando? vabbè venite sotto la via si si sotto la via ok ok perfetto chi è che scende al volo? non scendete fino a che non so fermato mi raccomando ok bravo qui alfa pronti a partire quando mi dai l'ok procediamo e tutti a bordo ah sperma ah grazie ho capito che hai fatto John Pio ma grazie ok allora ma chi è che si arrabbia? non lo so non penso sia il fratello di Fioran ho ricevuto il movimento ho ricevuto il movimento con quella strada ma è tutta dritta quindi non ci possiamo occhio alle curve strette io cerco le piale leggermente con meno sprint ma poco poco in modo che il gunner possa vedere se c'è un eventuale ED Matt com'è sopra? bene bene vai vai ok potremmo una mano un sereno no avere le ED più che altro potremmo pubblicato qua libero ah ok quello è il blindato distrutto ok vai 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 adesso andiamo andiamo si si vai vai non restiamo qua fermi che stiamo scopertissimi adesso tutta la tirata se a meno che non ci sta l'ED facciamo tutta la tirata si il tank prima guerra si gli MP scusate rompi allo il piede eh ok mezzo stop 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 spara 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 abbiamo incontrato adesso il gunner è in fuga ok 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 mezzo distrutto ottimo lavoro fox alfa bravo procediamo andiamo vai aspetta che sono intanto quelli sono a destra stop 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 eh a destra 34330 c'è una sotto l'albero vedo due testi non so non capisco se sono no può essere che al cespuglio sono sassi boh no perché mi sembravano proprio un tanto ridili per essere delle teste cioè delle tagli a destra non andare sul mezzo che è un cazzo del cespuglio comunque non ha distrutto fox mi sa che ha distrutto te con la gale del 50 avanti allora qua comincia a essere un po' tortosa eh mi raccomando occhi aperti tra circa circa 500 600 metri 500 600 metri abbiamo la città sulla destra puliamo come prima noi lato sinistro alfa lato destra no no non ti ferma proprio così cioè più che altro guardami sotto la strada ma se ci ingagiano tiriamo dritto sotto che non è importante mi interessa la strada che stiamo volendo ok fermate dietro il primo edificio a sinistra che è quello? che è quello? il cazzo del ah non posso ma niente niente vai avanti a sinistra sotto il primo edificio qua vai ok alto qui va benissimo giù tutti granatieri attivi entrate pulite la casa ci sono dei contatti a 320 dopo il fiume Raven ok ricevuto amg granatieri sopra sul terrazzo ricevuto abbiamo spottato i contatti oltre il fiume bravo settati sull'altro lato lato est prima del ponte primo piano libero primo piano libero ok amg sopra vai poi stai già ho capito allora quanti sono sti contatti? no comando qui alfa siamo a 163019 appena prima del ponte la città di Naciba presenta diversi contatti e amici presenti sul luogo quante volte ho detto presenti Cristi? c'è stato un po' anche 3-0-0 c'è stato un po' anche 3-0-0 c'è stato un po' anche 3-0-0 3-0-5 hanno aperto loro si hanno aperto stanno sparando comando qui alfa i contatti hanno aperto il fuoco apriamo anche noi interrogativo ok ok ci hanno aperto ok ci hanno aperto ora è uscito uno è uscito qua per tutti quanti per tutti quanti no HE sul ponte o nell'altra nella direzione della zona neanche se arriva un veicolo niente è possibile insomma sennò salta il ponte ok ok lascio il muretto si ma la volevo vedere la volevo vedere i gangi ti puoi settare lì davanti sui muretti fioran e copri le spalle dalla porta qui al nord vabbè io un attimo sto con te qui poi dopo mi sposti ci sono non la voce del Posizione Posizione Grazie a tutti. Alfa, scendete, raggruppate il mezzo, salite nel mezzo. Do a casa lì per primo. Sura dentro. Ok, montati notturni. Tutti dentro. La seconda è che devo montare notturni, che dentro non me lo... ok. Non devo arrivare, madonna. Ok, posizionate davanti al ponte per attraversarlo, c'ho più, vai. A destra, poi a sinistra. Vai, venire qui. Luce? Chiusa. Sì, venire chiuso. No. Buttaciola staccionando, qua non so che non ci passi. Ok, stand by, stand by, stand by, non attraversiamo. Oh. Spegni il motore. Fuck. Vì, andiamo. I 40. Tenete presente che sul lato nord della città sono stati sbottati diversi contanti. Bravo qui Alfa, come prima, noi lato sinistro e lato destra. Oh, meglio. Ok, non sta casa, quel lato... Occhio, c'è lì, di... Alta, 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 tu si vedete sulla sinistra. Passa largo a destra. Non lo vedo, eh. È il cassoletto, vabbè, eravamo già saltati, serve. Ok, piazza qui dietro, piazza qui dietro, si spiazzate. Dai, su. Giù. Ok, adesso lasciamo la posizione a... Non da quante possibilità ci stanno, non sta via. Pieno, perciò. Qualcati, soppertetti a 2-8-0. Non ce l'ho avuto, è un caso del pieno di mezzo. Bravo, prendete il tetto, che noi procediamo verso l'alto dì. Ok, dai, spiello piano. Alfa, andiamo, procediamo verso l'ovest. Mi raccomando, se riceviamo fuoco, forse che stiamo in campo aperto qua. Occhio di E.D. E se a che, queste cose sospette. Mancano... Redditori. Comando, qui Alfa. Ok, entriamo dentro. Team Assalto dentro. Comando, stiamo posizionando le prime case nel lato sud della città di Najiba. Presenti i contatti sia nel lato ovest, sud-ovest, che nel lato nord. Ok, dentro. Prendiamo... Uh, che puttana. Ok, sei nostro, sei nostro, guarda, andiamo. Ricevuto. Liberato. Capri, ricevuto. Capri, ricevuto. Ok. Ottimo. Ok, MG, granadiere sopra. Grazie. Ok, contatti lato ovest. Occhio aperti. Occhio mortaio. Alfa in broadcast, fuoco di mortaio in zona. Ricevuto, eh, nella zona sud-ovest, indicativamente dalla città. E qua c'è un altro possibile pieno di redd, cazzo, qua forse. Mi capisce un cazzo. Ok, ce l'abbiamo anche nelle case qui a nord, a quanto pare, sto qui, altri li ingangiano qua. Sì, c'è un tizio... Contatto. Ah, ovest, è qui. L'ho ricevuto, vi copriamo, vai. Ho ricevuto cinque. Vai. Stiamo in green, eh? Dai, stanza, 200 metri, ovviamente. Per la città siamo tutti in green. Era nel compound avanti. Copio. Porca troia! No, mi ricci hanno fatto in mezzo. Eh, vabbè, ma che sfiga, cazzo. Meglio che ci hanno fatto in mezzo. Che cazzo era l'ID, tra l'altro. Non si vede. Oh, ma, caglio. Vorrebbe sparare verso Fox, eh, però... Sì, no, è un po' l'impatto. Ma con i fucili sparare su ID non c'è nulla. Non credo. Comunque abbiamo trovato una fabbrica de... 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 Esplosivi, ragazzi. Non c'erano nemmeno accorti. C'è il capannetto qui a 040 che è pieno di ID in fabbricazione. Non vedi. Ok, allora, eh... Gianci, sale sopra. Mi serve uno che tiene fisso lato sud-ovest. Teniamo i triangoli, diciamo, di questa abitazione. Tranne quello dietro. Ok. Ok. Distiniamo da voi, però non voglio per sovrapposizione. Cerchiamo di tenere ognuno un angolo. Ok. Se deflagro, più è dato grebo. Quindi da saltare. Non vedo il tuo laser, ma... Gianci, tu tieni per 1-2-0, per favore. Non vedo il tuo laser. Ok. Ho ricevuto. Bravo, qui, Alpha. Cerchiamo di procedere in simultanea verso la strada ovest. Noi sul lato sinistro, poi sul lato destro. Ok? Ho ricevuto. Allora do l'ordine di copertura ai miei, così non riceviamo schieggio di granata. Ok, vai. Coperti, passi, che c'è Ramius che sparo ai degli oggetti. Cioè, cercare di capire se ci stanno degli eddi. Coperti. Andiamo sotto, vai, facciamo prima. Fuori prendiamo la posizion... Eh, perché... C'è history con Ramius. Vabbè, io tra poco stacco che vado a dormire. Vediamo ai cinque. Eh, ti capisco, tranquillo. Com'è, non ti preoccupare qui. Quando vuoi, dimmelo. Vedo con un occhio scio e un occhio no, quindi meglio te. Vabbè, 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 ma che fai, non giochi più bene? Eh, eh. Vieni un caffè, eh. È endovina. No, ma è che proprio... Cosa c'è? Non riesco, riesco, non riesco. Vabbè, vi poggio il zaino qua per terra, medico, se vi serve. Ok. Ok, dentro... Non penso, tanto non si è usato niente fino adesso. Non è usato niente. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ovvio. Ciao, notte. Ciao. Ciao, notte. Ciao, notte. Bravo, conferma anche tu il ribardo della zona indicata dal comando. Sei a distanza ragionevole da 160096 per il fuoco del casso, è trovato io. Ho ricevuto, comando, è da 30 secondi e siamo ok per il casso. Ok, ho ricevuto. No, ho capito, cara, se non mi dice. Rami si sta attraversando. Mi senti molto sicuro questa risetta. No, vabbè, non dobbiamo fare niente adesso qua, ma è che dobbiamo solo muoverci verso sud, ovest, mantenendo la sinistra della strada, quindi non è che... No, vabbè, vediamo pure la strada, perché se almeno non abbiamo IED. Facciamo la fabbrica, questa 050? Come? La fabbrica degli IED. Sì, l'abbiamo marcato dopo, ci torniamo. Ok, procediamo col movimento che è bravo, sta già avanzando. Cioè, il cartellone l'ha visto, Raven? Sì, 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 sì. Ok, ok. Troviamoci, riusciamo a... Su destra, c'è? Sì, siamo sul sinistro. Andiamo. Andiamo tutti, sì. Alfa 2, dietro il campano, iniziate la polizia. Matt, spigolo. C'è qualcosa? Ok. Lo sei in tregua. Vabbè, mentre adesso è il campano con l'interno, eh. Quello verso nord-ovest, ecco, di due rifiuti, approssimativamente. Se non apri il battito, che puoi. Puede anche evitermi, eh, John, 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 senza che state ottenendo solo un occo, ci facciamo.